è uscito l'aggiornamento 2 di vray 5 vediamo insieme le novità qui sono riassunte brevemente sono principalmente 9 vediamo di capire quali sono anche attraverso alcuni esempi a partire da scatter la possibilità ora di distribuire in maniera randomizzata casuale naturale oggetti su una superficie è presente questo nuovo pulsante nella barra di strumenti vray objects quindi con cui riusciamo a distribuire questi oggetti in modo randomizzato nell'esempio che stiamo vedendo si tratta di cespugli e alberi su di una superficie i parametri presenti permettono di personalizzare veramente in modo vario e completo la distribuzione di questi oggetti in maniera anche da ottimizzare il loro peso all'interno del modello e avere quindi comunque un rendering molto veloce ma anche molto realistico dall'effetto molto naturale passiamo ora a decal questa possibilità di proiettare un logo una scritta un'immagine una texture su un qualsiasi altro oggetto o superficie all'interno del modello troviamo anche questo come nuovo tipo di oggetto nuovo tipo di geometria che quindi deve incorporare al suo interno materiale effettivamente presente all'interno del modello tridimensionale questo oggetto che noi andiamo a posizionare lo vediamo alla forma di un grande parallelepipedo o piccolo parallelepipedo che proietta tra le sue proprietà andiamo a specificare quale materiale deve essere proiettato con quali altre dimensioni caratteristiche e lì dove questo parallelepipedo intercetta una superficie un oggetto delle geometrie queste vengono questo materiale viene proiettato questo oggetto lo si può spostare quindi è un modo per avere una scritta che vada trasversalmente su tutto quello che incontra sulla propria strada quindi il grande vantaggio è poter lavorare anche su superfici curve su cui comunemente avremmo avuto dei problemi a posizionare un logo delle scritte in questo modo invece è molto semplice viene letteralmente proiettato quel materiale con quella scritta con quelle immagini che vogliamo noi sull'oggetto di fronte quindi nuovo canale traslucenza direttamente nella sezione principale del v-ray material e l'opzione thin walled per vetri senza spessore vediamoli nelle proprietà del materiale sezione refraction abbiamo quindi la sezione translucency con cui attribuire appunto traslucenza nelle due tipologie volumetriche sub surface scattering al materiale in questione quindi molto comodo e coerentemente all'interno del canale della rifrazione e parallelamente questo thin walled che una volta abilitato permette di correggere quell'effetto relativo alla rifrazione che comunemente si vede se si vanno a fare i vetri senza spessore questo è fisicamente corretto i vetri devono avere spessore pure in sketchup per avere un comportamento alla rifrazione di tipo corretto come si vede altrimenti la rifrazione fa una da una visione distorta di ciò che si vede attraverso il vetro in questo modo noi invece possiamo attivare thin walled nel materiale in questione e questo si comporterà come un vetro con spessore che è un diciamo un tipo di errore abbastanza comune magari all'inizio se si è realizzato tutto un modello in cui i vetri appunto non hanno spessore nel modello 3d basterà attivare questa opzione nel materiale per correggere questo tipo di visualizzazione nuova sezione all'interno di chaos cosmos la libreria online che finora ha visto la possibilità di scaricare centinaia e centinaia di oggetti tridimensionali adesso viene arricchita anche da materiali quindi oltre ad avere la possibilità di scaricare materiali attraverso l'asset editor ora ce ne sono degli altri disponibili appunto in chaos cosmos la sezione la vediamo qui materials possibile effettuare delle ricerche filtrate ci sono le varie sezioni e materiali si possono scaricare e usare immediatamente all'interno del modello 3d la sezione di controllo dei colori per la post produzione è stata arricchita di una nuova sezione sharpen blur vediamola all'interno del frame buffer sezione di destra sharpen blur lo si va ad attivare e quindi è possibile modificare tradotto letteralmente è la filatura cioè quanto l'immagine risulta essere spigolosa come dire dettagliata all'effetto di sharpen dosato magari in minime dosi rende l'immagine più accattivante più materica se lo si disattiva si può vedere con e senza o meglio con e senza portandoli all'esasperazione questi parametri chiaramente anche l'effetto di blur immagine diventa sfocata quindi blur lo lasciamo abbastanza ridotto possibilmente l'effetto sharpen lo vediamo rende gli oggetti più definiti quasi maggiormente leggibili vision vediamo alcune novità relative anche a questo visualizzatore in real time ora supporta le luci fotometriche le luci ies precedentemente non erano supportate ora invece come possiamo vedere questi file fotometrici quindi caricati sotto forma di le vediamo qui ies light eccole visualizzate in vision inoltre ora da vision è possibile esportare una video animazione in modo nativo senza dover montare assieme la sequenza di fotogrammi esportati qui viene esportato direttamente un file video dovremo preventivamente attivare la impostazione animation nella set editor quindi poi avviando vision avremo la possibilità di vedere questa linea del tempo sottostante che passa attraverso le scene presenti e quindi con il pulsante di salvataggio andando a selezionare tipologia di esportazione video potremo personalizzare la qualità il formato e quindi esportare quello che ritroveremo sarà dunque un normale file video in formato web m da poter condividere inviare caricare online in qualsiasi momento ancora in vision ora è possibile esportare un file stand alone vediamo il pulsante qui evidenziato all'interno della finestra di vision possiamo esportare un file eseguibile che incorpora il modello renderizzato che quindi può essere inviato a chiunque che pur non disponendo di vray magari nel proprio computer potrà prendo quel file eseguibile con un doppio clic navigare all'interno del modello renderizzato e navigare in ogni sua parte poterlo visitare e quindi farsi un'idea del progetto in modo esaustivo infine è stato aggiunto un live link chaos vantage questo strumento rendering real time esterno alla licenza vray per sketch up in cui viene visualizzato il modello in modalità real time diciamo avanzata più avanzata rispetto a quella di vision vision fa parte di vray è incorporato all'interno di sketch up vantage è invece diciamo un software esterno con cui possiamo ora avere un link diretto fra il modello di sketch up in cui si sta lavorando e con in quel e con questo visualizzatore esterno che necessita una legge una licenza a parte chaos vantage qui vediamo il percorso possibile avere un link diretto per vedere le modifiche del modello di sketch up direttamente nel visualizzatore esterno vantage con questo abbiamo concluso queste sono state quindi le principali novità di questo importante update uscito qui a novembre 2021 di vray 5 quindi che dire ogni volta che c'è un update ci sono veramente tante novità una più interessante dell'altra a mio avviso per il nostro vray per realizzare i rendering sempre migliori e sempre in meno tempo